Finalmente siamo tornati, siamo tornati con un video a mio parere importantissimo che sono sicuro tocca tantissimi ragazzi che al giorno d'oggi, specialmente in Italia, sono pieni di dubbi perché il nostro sistema e comunque, diciamo così, il nostro stato si focalizza poco su scelte tanto importanti come questa. Di conseguenza cercheremo un po' di approfondire quello che è questo tema e cercherò un po' di darvi dei consigli. Quindi, come scegliere l'università giusta per te? Allora, in primo luogo bisogna dire che di università ve ne sono tantissime. Sia in Italia che all'estero ve ne sono di più prestigiose, di meno prestigiose, di più competenti, di meno competenti, di più antiche e di più nuove. Tuttavia ogni università ha i propri pregi, i propri difetti. Ha sicuramente dei vantaggi, dei campi in cui eccelle e dei campi invece in cui arranca. Quindi non vi è un'università che è migliore per tutto. Vi sono diverse università, magari specializzate in diversi ambiti. Guardiamo un attimo i motivi per cui è importante scegliere invece un'università valida. Attraverso poi queste ragioni andremo un attimo a elencare perché, per come, secondo quali ragioni, secondo quali criteri, questa scelta o comunque questo motivo risulta essere importante. In primo luogo, scegliere un'università valida è direttamente correlato alla qualità dell'insegnamento. Questo perché un'università valida, un'università famosa, rinomata, comunque che ci tiene a essere parte dei ranking, o comunque i cui professori pubblicano molto su riviste specialistiche, avrà, di conseguenza, un'alta qualità dell'insegnamento. Questo perché l'università tenderà ad eccellere e, di conseguenza, si impegnerà nel produrre contenuti di qualità che poi va a esporre, diciamo, e va a insegnare ai propri studenti. È importante però anche qui capire che vi potrebbero essere università che hanno un'altissima qualità di insegnamento, ad esempio, magari nelle materie economiche, però nelle materie umanistiche, sempre che siano presenti in quell'università, potrebbe arrancare, potrebbe far fatica. Questo perché moltissime università scelgono un campo nel cui specializzarsi. Quindi è molto importante, se ad esempio abbiamo la passione, non lo so, della letteratura, prendere università dove è presente letteratura e compararle fra di loro, quindi vedere i vari ranking, le varie pubblicazioni, gli insegnanti. Quindi la qualità dell'insegnamento è sicuramente una caratteristica che ha un'università rinomata, un'università prestigiosa, una buona università. Successivamente viene, di conseguenza, la qualità e l'esperienza dei docenti. Scegliere un'università valida comporta avere docenti con esperienza e qualificati. Questo perché università prestigiose cercheranno sempre di avere tra i propri docenti persone di qualità, persone magari con anni di esperienza non solo nella docenza, ma anche nel mondo pratico, nel mondo, diciamo, reale. Vi faccio un esempio, io ho appena terminato un master in management, presso un'università estera in Spagna, e il mio professore di finanza, prima di diventare insegnante, faceva parte del Ministero delle Finanze spagnolo. Quindi ha maturato esperienza sul campo, e grazie a questa esperienza è poi riuscito a diventare anche insegnante, e a, diciamo così, insegnare ciò che lui ha imparato sul campo. Quindi, di conseguenza, insegnanti di qualità tendono a preferire di insegnare in università altrettanto prestigiose. Quindi, di conseguenza, scegliere un'ottima università comporta avere ottimi docenti, o perlomeno nella gran parte dei casi. Risorse disponibili. È anche evidente che un'università prestigiosa, o comunque un'università che celle in un determinato ambito, avrà anche delle risorse. Vi faccio un esempio. Queste risorse possono non essere magari solo economiche, ma possono essere anche a livello di contenuti. Si va dalla biblioteca vasta, magari, per chi studia letteratura, a piattaforme come possono essere Bloomberg, o Sabi, o Informa, o Capital IQ, per chi studia economia. Quindi, università rinomate, università serie, investiranno in queste risorse, che poi rendono disponibili agli studenti, in molti casi gratuitamente. Networking. Questo è forse la caratteristica più importante di un'università di qualità. Infatti, cos'è che distingue una Bocconi, una Cattolica, da magari un'università più nuova, meno importante, meno prestigiosa? Il networking. Questo perché, andando presso un'università prestigiosa, indipendentemente dal fatto che questa sia privata o pubblica, perché prestigioso vuol dire di qualità, e di qualità, molte volte si tende a pensare, sì, certo, è privato perché i privati hanno più soldi. Non è così, signori. Guardate il Politecnico di Milano. Un'eccellenza non solo in Italia, ma nel mondo. Quindi, in queste università qualificate, in queste università di spessore, si creano tantissimi legami. Questi legami possono essere tra l'università e le imprese. Quindi un'università di spessore potrà garantirvi dei tirocini, degli stage di qualità, presso imprese rinomate, che non solo serviranno a arricchire il vostro curriculum, ma anche un domani magari vi assumeranno e potrete iniziare la vostra carriera lavorativa già in posti di lavoro o di rilievo. Oltre a ciò, vi ha anche il networking degli insegnanti. Avere insegnanti di qualità fa sì che si hanno insegnanti che possono addirittura coinvolgere gli studenti in progetti e iniziative assai formativi, assai di qualità. E poi anche il networking fra studenti. Ovviamente se tanti studenti di qualità si ritrovano a studiare un indirizzo che appassiona tutti, fra di loro si creano legami. Innanzitutto perché vi è l'interesse per la materia comune. Sappiamo tantissimo infatti che molta gente va in università perché non vuol lavorare. Andare invece in un'università che eccelle in un determinato ambito vuole anche dire in molti casi trovare gente che punta ad eccellere in quell'ambito. E quindi creare legami di qualità, creare lavori di gruppo, o comunque collaborazioni di qualità, e tutto questo networking, quindi l'università e i rapporti con imprese esterne, l'università e i rapporti con i professori, i professori e i rapporti con gli alunni, portano tutto questo a uno step in più, a un gradino in più. Il networking, la qualità dei contatti, è davvero la chiave del successo. Ovviamente poi la reputazione e il prestigio. Fa la sua figura, mettere a curriculum di aver studiato presso un'università che magari è top 50, top 100 nel mondo, in un determinato ambito. Pensiamo anche alla normale di Pisa, un'università importantissima, l'università di Bologna, tra le più antiche del mondo, se non la più antica, l'università di San Gallo, una delle migliori al mondo in economia, l'università di Zurigo. Avere un'università di prestigio è senza dubbio un plus. In primo luogo perché sarà l'università stessa a voler mantenere quel prestigio e quindi a fornire un servizio a 360 gradi e di qualità. E allo stesso tempo, comunque, fare un'università prestigiosa sul curriculum e nel mondo del lavoro è sicuramente un in più. Ovviamente molto importante è anche il career service. Come ho nominato nello step antecedente, ovvero quello del networking, è molto importante anche avere un'università che tuteli e voglia accompagnare i propri studenti nel mondo del lavoro. Questo come si fa? Attraverso uffici interamente dedicati a stage, internship e magari posti di lavoro successivi all'università. Grazie infatti al lavoro di questi uffici, gli studenti, ancora quando sono studenti, prima ancora di terminare il percorso universitario, iniziano a interfacciarsi nel mondo del lavoro. Quindi magari l'università ospita fiere, dove le imprese del settore o le imprese di vari settori vengono presso l'università ed espongono quelle che sono le opportunità di lavoro, oppure addirittura attraverso dei portali e delle conoscenze, mi raccomando la parola conoscenze è importantissima, perché è proprio il networking che permette le conoscenze, fa sì che l'ufficio career, quindi l'ufficio sbocchi lavorativi, possa fornire ai propri studenti delle posizioni di lavoro che magari in altre università neanche possono sognarsi. Quindi è molto importante anche prestare attenzione a questo nella scelta dell'università. Ovviamente poi vi è anche l'alumni. Cos'è l'alumni? Molti ragazzi ancora non lo sanno, ovviamente. L'alumni sono i servizi che si prestano agli ex studenti di quell'università. Di conseguenza, ad esempio, se un ragazzo studia in cattolica, potrà appoggiarsi alla cattolica anche negli anni futuri, quindi continuare a usufruire delle sue strutture, delle sue competenze, dei suoi servizi, quindi come ho nominato prima, magari se la cattolica fornisce il servizio di Bloomberg Mark e la piattaforma Bloomberg ai suoi alunni, magari mantiene questo servizio anche per gli ex alunni. Quindi nel mondo del lavoro, dopo l'università, poter continuare a usufruire dei servizi dell'università è una cosa che tante volte gioca un ruolo chiave, è una cosa importante. oltre a ciò, avere anche un alunni che ha avuto esito, quindi ex studenti che hanno avuto successo nel mondo del lavoro è importante, perché comunque, se ad esempio l'amministratore delegato di Fiat ha fatto l'università della Sapienza, e per fare proprio un esempio a caso, è normale che la Sapienza assume spessore, assume prestigio, e quindi ovviamente dire ah, io sto facendo la stessa università che fa lui, per quanto magari non si ammiri neanche quella persona, non si voglia puntare ad essere come quella persona, è sicuramente una nota importante. Un consiglio che posso darvi è quello di, prima di scegliere l'università o il master, quello che sia, cercare su LinkedIn o comunque attraverso i portali dell'università degli ex studenti e contattarli in prima persona. Questo perché contattando un ex studente in prima persona, molte volte avrete la realtà, la verità dei fatti, perché non è lo stesso contattare un'università che vuol vendervi il suo servizio e contattare un ex studente che ormai non ha quasi più nulla da guadagnare. Quindi molto importante anche riuscire qualche mese prima della scelta a entrare in contatto con diversi studenti, perché è sempre importante avere più di un'opinione, e poter porre loro tutte le domande del caso. Ovviamente anche qui la Global Recognition, quindi anche qui ci colleghiamo al fatto del prestigio, però stavolta a livello internazionale, perché come sappiamo nel mondo globalizzato di oggi è importante avere anche un'università che abbia un networking globale, quindi al giorno d'oggi sempre più università fanno progetti magari in partnership con l'università della Germania, dell'Austria, della Spagna, del Portogallo, e allo stesso tempo un'università rinomata a livello internazionale permetterebbe anche un domani di avere sbocchi lavorativi all'estero. Come sappiamo l'Unione Europea permette la libertà di movimento, quindi non sarebbe male poter dire di lavorare in Austria, in Germania, grazie a un titolo di studio ottenuto in Italia. Sappiamo ad esempio che molti laureati in medicina in Italia, che è tra gli indirizzi più prestigiosi e qualificanti d'Italia, purtroppo decidono di andare all'estero, forse perché maggiormente valorizzati. Se comunque la facoltà di medicina italiana non fosse così di prestigio in tutto il mondo, questi studenti non avrebbero l'opportunità di andare all'estero. e ovviamente per concludere la crescita personale. Scegliere un'università top in un determinato ambito permette anche una crescita personale, non solo a livello di conoscenze teoriche, quanto anche a livello di ingresso nel mondo del lavoro, a livello di conoscenze interpersonali, perché comunque ci si collega con persone con le stesse passioni e oltretutto il fatto di avere un servizio di qualità a tutto tondo permette di entrare magari come ragazzi e uscire come uomini formati, pronti a entrare e avere successo nel mondo del lavoro. Quindi come posso io sapere se un'università è prestigiosa e di successo e valida in un determinato ambito? Ovviamente possiamo appoggiarci alle risorse online. Quindi io qui ve ne ho listate alcune, ce ne sono moltissime, però ad esempio il World University Ranking, il QS World University Ranking, è uno dei ranking mondiali più famosi per quanto concerne il prestigio universitario. Attraverso questa piattaforma voi potete ad esempio dividere le università per ramo, quindi ad esempio magari uno studente interessato magari nello studio delle lingue guarda le classifiche inerenti allo studio delle lingue. Uno studente interessato allo studio dell'economia o del management o della finanza può quindi filtrare le classifiche in base agli indirizzi, perché magari un'università che c'è l'ingegneria, dove magari può ricoprire i primi posti a livello mondiale arranca in economia o in management. Quindi è molto importante anche filtrare queste classifiche. Un altro ranking importante è il T, il T World University Ranking, questi World University Ranking che si copiano un po' l'uno con l'altro è comunque il T, altro ranking validissimo, o magari il ranking del Financial Times che è più specifico magari per i master o gli MBA. Oltre a questi vi sono mille altri ranking magari stilati da banche o enti no profit o enti sovranazionali o enti nazionali. Comunque è molto importante anche appoggiarsi a questo per capire se l'università che si vuol fare ricopre una posizione di spessore nel mondo universitario globale e nazionale. Molto importante anche tenere in conto dei trend. Se un'università magari è al centesimo posto e potrebbero esserci altre università al settantesimo, al sessantesimo interessanti, è importante ampliare l'arco temporale. Magari quella che al sessantesimo una volta era al trentesimo e sta peggiorando le sue prestazioni mentre quella al centesimo fino a qualche anno fa era al trecentesimo e sta crescendo, si sta migliorando. Quindi in ottica futura è interessante pensare mi conviene andare in un'università ormai in decadenza o mi conviene puntare su un'università nuova che sta crescendo? Anche questo è uno spunto interessante. Comunque, per qualsiasi dubbio vi consiglio in primo luogo di scrivermi qua sotto nei commenti le vostre curiosità, le vostre riflessioni. Anch'io comunque mi sono incontrato in una fase di difficoltà quando ho dovuto scegliere il master proprio perché non mi sentivo a pieno soddisfatto del percorso triennale e volevo grazie al master riuscire un po' a colmare le mie lacune. Quindi, se avete dubbi o qualsiasi cosa appoggiatevi nei commenti. Se invece state già pensando di entrare in un percorso universitario di spessore vi invito a andare nel canale e cercare il video dove vi presento uno dei test più importanti d'accesso per questa università prestigiosa il GRE. Comunque, ci vediamo presto in un prossimo video. Grazie per l'attenzione. Se volete supportare lasciate like ed iscrivetevi e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!